Benvenuti a Virgilio News, un nuovo programma attraverso il quale sarà possibile settimanalmente approfondire la conoscenza dell'Alto Mantovano e della Bassa Bresciana. Oggi andremo a Montichiari dove si è svolto il primo talent show nella storia del progetto talenti e successivamente andremo a Castiglione delle Stiviere dove è stato inaugurato il nuovo IAT, un ufficio davvero importante per il nostro territorio. Vediamo i servizi. La città dei talenti è una rete internazionale di centri per lo sviluppo dei talenti insiti nell'essere umano sin dalla sua nascita e a Montichiari si è tenuto il primo talent show nella storia del progetto talenti dove è stato premiato anche il presidente dell'associazione Coline Moreniche dei Garda Luigi Lonardi per aver sensibilizzato piccoli e grandi ad un'educazione alla pace e al risorgimento. Sono contento di ricevere il talent gold che mi viene assegnato per l'impegno che ho elargito nel campo della promozione del ricordo del risorgimento quindi il nostro territorio che è prettamente risorgimentale mi sembrava che fosse una bella cosa impegnarmi ed è arrivata questa sorpresa che gradisco moltissimo. Una bella cosa anche collegare i vari paesi limitrofi a Solferino appunto potremmo dire capitale di risorgimento? Certo, qui siamo a Montichiari, Napoleone III qui mise il suo quartiere generale prima della battaglia per poi spostarlo immediatamente perché la battaglia inaspettata è scoppiata al mattino presto verso le 5 e mezza tra Solferino e Castiglione a Grole e da lì è stato chiamato dal suono del cannone e quindi impegnato tutta la giornata come conosciamo bene di quella 24 giugno del 1859. Lei è il presidente dell'associazione Coline Moreniche la quale si inserisce all'interno del progetto Virgilio News, un telegiornale che vuole da spazio all'Alto Mantovano e al Basso Bresciano. Come mai avete deciso di far parte a questo progetto? Ma che ci sembrava intanto importante perché il nostro territorio ha delle carte da giocare dal punto di vista della promozione turistica. È un ambiente che è stato salvaguardato dalla cementificazione, conserva un ambiente naturale importante e nel nostro territorio si unisce la storia dell'uomo perché di conseguenza la battaglia è nata l'idea della Croce Rossa ma già dal rinascimento c'erano interventi importanti quindi diciamo che dal rinascimento al risorgimento c'è una peculiarità emblematica del nostro territorio. A Castiglione delle Siviere è stato inaugurato il nuovo ufficio turistico IAT di informazione e accoglienza turistica dell'Alto Mantovano dove sarà possibile scoprire a 360 gradi l'area morenica dei Garda con storie, eventi e culture e naturalmente le tipicità e non gastronomiche del nostro territorio. Deve essere il motore della promozione turistica e dell'accoglienza di tutto l'Alto Mantovano come ho detto prima non è un ufficio locale, non è patrimonio esclusivo del Comune di Castiglione delle Siviere, è patrimonio di tutto l'Alto Mantovano da qui si diffonderà una rete che aiuterà lo sviluppo turistico, le prenotazioni, la conoscenza del territorio, le informazioni necessarie perché sviluppare il turismo significa anche sviluppare nei cittadini un amore maggiore per la propria città, per il proprio paesaggio e per l'ambiente, un orgoglio di essere cittadini dell'Alto Mantovano e questo aiuta oltre che a una maggiore qualità della vita anche l'economia perché il turismo può essere una fonte di integrazione importante delle economie locali. La Regione Lombardia ha contribuito fortemente alla nascita di questo nuovo ufficio. Un piano importante che ha pescato nella misura del piano di sviluppo rurale 70.000 euro, però questa è solo la prima tappa, il GAL finanziato due anni fa proprio sulle colline moreniche permetterà di aggiungere quasi altri 100.000 euro per un punto che deve diventare capacità di accoglienza, presentazione dei prodotti tipici della provincia di Mantovano e promozione di questo territorio che ha potenzialità enormi. Sviluppiamo il territorio dalle colline moreniche ma rendiamoci anche conto che a pochissimi chilometri c'è il secondo sistema turistico italiano, il Lago di Garda, che ha bisogno di qualità, di nuove offerte, di percorsi anche artistici, museali, di accoglienze e qua siamo in grado di poterlo fare per cui credo che le prospettive da oggi si amplino in maniera importante. Grazie a tutti! Grazie a tutti!